15 milioni e mezzo che con questa legge Zaia chiede in più agli inquilini onesti, anziani e pensionati che sono nelle case popolari del Veneto. I consiglieri regionali del PD annunciano battaglia durante il prossimo consiglio domani a Palazzo Ferrofini. Questi i numeri che inquadrano la situazione degli aumenti dei canoni degli alloggi popolari dopo l'entrata in vigore della legge regionale. Secondo il PD questa misura non serve a sanare i furbetti delle case atero, ovvero coloro che vivono nelle case popolari pagando affitti bassi pur non avendone i requisiti, ma come unico effetto quello di penalizzare i pensionati. Non nascondiamoci dietro la questione dei furbetti o furboni che si arco e devono lasciare questi alloggi. Noi siamo qui a dire che questa legge ha un impatto negativo sulle persone oneste, soprattutto anziani e pensionati con pensioni minime. Molti pensionati hanno da parte i risparmi di una vita che potrebbero servire per una badante o per le spese mediche e invece proprio a causa di questi risparmi si vedono aumentare il canone d'affitto. La richiesta del PD è quella di prendere ad esempio quanto fatto da un'altra regione a guida Lega. La Lombardia ha da alcune settimane a questa parte annullato il canone di locazione per chi ha più di 70 anni, cioè pagano zero. Qui invece stiamo chiedendo a tutti gli inquilini 15 milioni in più di canone rispetto alla legge precedente. E non c'è nessuna considerazione diversa nei confronti dei pensionati, di chi ha lavorato una vita, di chi ha ricevuto il TFR. Ecco cosa accadrà domani in Consiglio regionale. Chiederemo di sospendere gli effetti di questa legge. Siamo pronti con le nostre proposte già da giovedì quando l'assessore verrà in commissione perché bisogna rivedere molti criteri e molti dei contenuti di questa legge.